Presidente, avete concluso il 2019 con una sconfitta cominciata il nuovo anno con una vittoria importantissima, significativa per tanti motivi. Sicuramente sì, abbiamo iniziato bene, questo è importante perché oggi era una partita delicatissima, può valere, non dico un campionato perché è ancora lunghissimo, però abbiamo dimostrato che ci siamo, abbiamo dato anche un segnale agli inseguitori che se ne sono tanti di squadre, quindi una grande vittoria che penso che valga non tre punti ma sei punti. Vittoria di carattere soprattutto perché dobbiamo fare anche complimenti al Vasto Girardi. Sicuramente sì, a un primo tempo abbiamo sofferto tanto ma la squadra del Vasto Girardi lo sappiamo è una squadra importante, una squadra che corre, una squadra che gioca anche bene, questo è un campo piccolo dove noi non siamo abituati tanto a giocare perché giochiamo con campi un po' più grandi e quindi si doveva un po' cambiare il metodo di gioco, però abbiamo fatto un secondo tempo alla grande e credo che la vittoria ci sia meritata, quindi questo è importante. Sanzovini, abbiamo già utilizzato tutti gli aggettivi possibili e immaginabili, giocatore pazzesco. Io penso che sia immenso come giocatore, ha fatto un gol solo lui, poteva fare quel gol, se l'ha inventato e da lì chiaramente abbiamo preso anche più coraggio, quindi abbiamo anche il terzo gol, quello di Liguori è stato un grande gol, quindi insomma alla fine abbiamo fatto due euro gol ma penso che la vittoria sia più che meritata. 15 successi in 18 partiti. Sono tantissimi, a dire la verità sono tantissimi sperati, però sono tutte vittorie meritate, devo dire, sofferte sì perché si soffre in tutti i campi perché questo è un campionato livellatissimo, però credo che non abbiamo mai rubato nulla e la squadra oggi ha dimostrato veramente di essere una grande squadra.